Andiamo oltre la settimana, andiamo oltre. Andiamo oltre i problemi, non è il momento di parlare di questa cosa, credo che sia il momento di parlare di come questa squadra comunque nelle difficoltà prova quasi sempre a tirar fuori tutto quello che serve per stare in campo il più possibile. E poi è evidente che a volte questa cosa non posso riuscire, ce ne dobbiamo prendere le responsabilità, però sappiamo chi siamo. Sappiamo che possiamo ancora crescere, sappiamo che abbiamo ancora due partite dove possiamo portare a casa molto di buono, due partite complicatissime. Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto l'aspetto dell'attacco perché tante volte non è sufficiente e sappiamo che quella è una situazione che a noi ci fa molta differenza, perché poi dal punto di vista dell'organizzazione di gioco stiamo in campo. Secondo me Sisele si è visto di nuovo un sistema di muro difesa che ha limitato parecchio una squadra che ha degli attaccanti molto forti e Timitrova lo ha dimostrato. Riuscire a fermare i loro posti quattro non era semplice, ci siamo riusciti, riuscire a fermare i loro centrali quindi siamo contenti, siamo contenti della vittoria, siamo contenti oltre a un discorso che vale per i trattori.